3 4 via siamo già in ritardo andiamo al punto di ritrovo 10 minuti di ritardo e ci sta come al solito siamo arrivati sto parlando nel video adesso diamo il testimone a tutti i riders presenti diciamo di presentarsi primo partecipante presenti lezione di vita 19 anni perfetto finito mi attendi secondo rider il fulgolatore presenti parli il numero 149 il terzo è proprio lui sono una specie di cross country star basta finito lei devo pensare a cosa dire passano a cominciare no già fatto cimo l'anonimo ok posto perfetto andiamo andiamo stiamo partire vai vai stiamo partire oh fa anche meno cos'è una dell'altro giorno sto visto io ho messo due fascette delle fascette ci risolve tutto il ragazzo qua è alla ceca tempo si comporta oh my god oh my god man Tiriamo tutti i giochi All'occhio al drop qua Oh mio dio Oh mio dio Cosa ho appena visto È andato giù copiando proprio È andato per certa I due all'ora è andato in una ruota Di ciò che si rivoltava Wippa Io l'ho schivata all'ultimo Siamo che non vedi La possa, la prende Il come in action Momentino videolino per Instagram Guarda che bel guantino Così è touch Classici problemi tecnici Classici per forza Guarda che bel imbananato Tiene questo Qual è il problema? Bisogna buttare via nel bidone Tiene questo Quale? Oh vai Basta Fantastico Vedi che è venuto un po' più su Ah grazie Ah perché fa lo spurgo No Spurgoista minchia fa Ah 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 Cosa sto filmando si è venuta su? si Bede la cia da culo Oi ah 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 Non è meglio hai po' ma Ah 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 Dai al posto Via, andiamo, andiamo Ah 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 Riusciamo inciwo amici Sí Si Non ci vede? Lo vuole lei? La GoPro facciamo due sleppe GoPro Ha giudicata questo uomo A questo scantino Ciao bello No va bene va bene Via Prima parte sempre emozionante È polveroso ma non è male dai Non è malaccio Così alla cieca Non mi ricordo bene il sentiero Ci sono dei canali che si infili dentro Diciamo che non è proprio piacevole Tornantini Un po' di tecnica nello stretto Girocchia strette Attenzione qua non arrivare lunghissimi Oddio Oh mamma ormai esco fuori Oddio Oddio Oh clean Questo qua lo chiamiamo Claudian drop Prima Un po' di stis per favore Bellissima Mamma che discesa Adesso risaliamo per l'ultima Anzi niente ultima Dopo No no stavo parlando con la mia telecamera No perché io ho dei miei clienti che mi seguono Qui nella telecamerina Però io li saluto sempre perché loro mi vogliono bene Facciamo la gara io a te Ti vengo dietro? Ti vieni dietro io davanti Se mi vuole sorpassare basta fare un fischietto ti faccio andare avanti Grazie molto gentilissima 3 4 via Occhio occhio che sono a gara Levati levati Stai buono tieni il minimo Dai 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 che sto facendo la gara Dio voglio dato minuti di pacco in 20 secondi Dai? Si Carino Curve Wow Wow Yeah boy Andiamoci una regolata qua Si L'hai appena detto Non l'hai fatto il tempo dirlo Penso Pura 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 Chiavacca Ola Ola Oh Dio Stesia Oh my god Vabbè ragazzi le cadute oggi non le abbiamo filmate Però abbiamo le prove Qua è qua una stallurata paurosa Come stai come? Hai un po' Hai un buchetto nella gamba È a posto Cosa hai messo qua dentro? Il gelato al puffo? Pettorino con il manubrio qui Ah ma la maglia Guarda che ritallone il copertone qui No ragazzi Cos'è? Ma ci credo che ha stallonato Ma è salta via la valva Ma cosa fai? Apri prima di buttarla dentro? Dio Buon professionista qua Si Non mi stai parlando Ci sono un po' di ruote piegate Aspetta aspetta Guarda 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 che roba Con il motorino Siamo di nuovo on board For the last one Fai Priscilla Ecco qui Madonna fermati fermati È bellissimo qui giuro Oh 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 Grazie a tutti Allora qua le gopro hanno dato il collo Quindi facciamo la conclusione Con il telefonino Oh la mia vale Non va niente Non va niente Quindi se vi è piaciuto mettete like Iscrivetevi al canale La fine del video più veloce del mondo